Siamo arrivati finalmente a Piazza dell'Università, stanchi morti, siamo partiti da Acitrezza, abbiamo fatto 10 km fino a Catania, un gruppo di persone enorme con queste fantastiche magliettine a sostegno di Giancarlo Cancelleri, stanchi ma soddisfatti perché ogni persona che aveva incrociato, ognuno che aveva incontrato ha avuto un semino nella testa, chi ci sosteneva già, chi invece ha voluto sapere, chi ha voluto conoscere, chi ci ha dato uno sprint in più. Manca una settimana, dobbiamo mettercela tutta, questa sera qui sul palco, se siete nel Catanese veniteci a trovare a proposito, dalle 21 a Piazza dell'Università, sarà Beppe Grillo, Giancarlo Cancelleri, Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio e tanti portavoce, direi quasi tutti in realtà. Salutare anche dalla mia pagina. Due dirette in contemporanea. Ciao Giulia. Giulia Grillo, è troppo stanca, infatti un po' schizzata, come vedete. Ragazzi guardiamoci contemporaneamente nei video, dai facciamo una cosa che non ha fatto mai nessuno. Esatto. E niente, quindi qui oggi finiamo questa parte di tour, ma continuo anche nel Catanese ovviamente. Domani mi trasferisco a Palermo e lì parte il Palermo Day, domani tutto il giorno saremo in piazza con Beppe Grillo e con tutti gli altri per rinvadere Palermo. e poi tutta la settimana, io su Palermo e tutti gli altri 20 gruppi di parlamentari su tutta la Sicilia, perché parliamoci chiaro, quel 26% di siciliani che non sanno nemmeno che si vota, non solo devono saperlo, ma devono anche votare. E quindi è importante mettercela tutta tutti quanti insieme. Io l'energia che ho visto oggi, l'energia che ho visto in questi giorni, sono certo che se la trasformiamo in un 10% di persone in più che va a votare, cambiamo questa regione, ce la prendiamo e da lì ci vediamo il paese. Snotchiamo tutti, mettiamocela tutta e coraggio, ci veniamo più tardi dalla piazza durante la gora. Bravo Maglio!